Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e siamo di nuovo qui per un nuovissimo episodio su Mario Kart 8 per Wii U Ok ragazzi, direi che con un nuovissimo episodio di questo titolo possiamo concludere la settimana dedicata a Mario Kart 8 Praticamente vi ho pubblicato un video al giorno legato a questo titolo Ci ho pensato su, come vi dicevo negli episodi precedenti e ho deciso alla fine di magari portarvi altri episodi legati a questo videogame Però magari un po' più intervallati con le altre serie che sto facendo in questo periodo sul canale Anche perché magari molti di voi piace Mario Kart 8 però vorrebbero vedere magari anche un po' di più Drive Club, un po' di più FIFA 15 Un po' di più magari Bioshock Infinite Insomma, un po' un mix un po' più variegato di titoli Comunque, sono già arrivato nella selezione del personaggio Ragazzi oggi vorrei tanto provare Luigi che non l'ho mai provato Scegliamo lui, dai, con magari un veicolo un po' più decente Abbiamo sbloccato un nuovo pezzo, eh Oh, guardate, abbiamo le ruote spugnose Perfetto, vabbè, però io intanto vorrei tirarmi via la coccinella Allora, andiamo nella lista delle qualità dei veicoli Cioè, scusate, le caratteristiche del veicolo andiamo ad analizzarle Vorrei qualcosa di equilibrato Eh, questa Mercedes qua non è male La V25, freccia d'argento, eh Vediamo se c'è qualcos'altro Ah, prendo la moto da cross, guardate E le ruote mettiamo Vediamo, mi servono ruote che mi diano anche velocità Oltre che accelerazione, eh Queste qua spugnose, dai, proviamole subito Eh, come paracadute mettiamo Io mi tengo quello di Bowser E come trofeo, ragazzi, abbiamo sbloccato il trofeo speciale Però lo faremo nel prossimo episodio Allora, qual è che mi manca? Fiore l'ho fatto, stella l'ho fatto Foglia l'ho fatto, fulmine l'ho fatto Banana l'ho fatto Mi sembra che mi manchi il guscio e il fungo, se non sbaglio Facciamo il trofeo fungo, dai Iniziamo Gran Premio Eccoci qua, ragazzi Siamo allo stadio di Mario Kart Quindi giochiamo in casa di Mario Cerchiamo di fare una bella figura Andiamo subito in griglia Naturalmente partiamo dall'ultima posizione Cerchiamo di fare subito un ottimo risultato Dai, che partiamo col booster iniziale Perfetto, non ci ha dato tanto, però meglio che niente Mamma mia, come risaliamo subito in classifica Prendiamo un power up e vediamo cosa ci danno Io posso esterno, ragazzi, così abbiamo tutti i booster Intanto piazziamo una banana lì Banana qua, banana qua in mezzo Attenzione al guscio rosso Wow, Donkey Kong ha preso subito una banana Perfetto, dai che siamo in quarti Siamo quarti Cosa ci danno? Fungo Me lo prendo Ah, però sono lungo Nooo, mi hanno preso con due gusci, ragazzi Non con uno solo Con due Mamma mia Allora, cerchiamo subito di recuperare Anche perché non è un tracciato lunghissimo questo qua Perfetto Abbiamo tre funghetti Ok Allora, il primo giro è già andato Ciao Mario È qua davanti Ci mettiamo in scia Attenzione, siamo davanti Attenzione a Mario che ha una banana Io invece ho un guscio verde Ah, c'era il muro lì, non l'ho visto Però abbiamo preso qualcuno, ragazzi Incredibile Allora, mi metto dietro a Todet A Bowser Magari mi danno un po' di scia Dai, datemi un po' di scia Nooo Mi danno però un piccolo booster Monetina Attenzione, nooo Caspita, pensavo di averla sfiorata la moneta Attenzione che stiamo finendo dietro in classifica Davanti stanno andando come dei forsennati Prendiamoci un po' di monete Guscio rosso Ciao Todet Attenzione alla banana Mario è stato fermato Ok, siamo davanti, ragazzi Siamo davanti Dai, dai, dai Scappiamo via Scappiamo via Scappiamo via Nooo Caspita, l'ho vista Kilometri prima La banana Preso Mario Di sponda, ragazzi Attenzione a Mario Metallo Siamo secondi Attenzione alla tizia lì davanti Con la banana Che non ce la piazzi, magari Sulle nostre ruote Perfetto, l'abbiamo evitata Ok, caspita Già l'ultimo giro Dammi un guscio rosso Dammi un guscio rosso Dammi un guscio rosso No, la banana non me ne faccio niente Serve il booster No, 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 no Pensavo di riuscire a mettermi in scia Vabbè, non importa Siamo comunque finiti i secondi Iniziamo alla grande Daisy ci frega sulla linea del traguardo Ma non importa Andiamo subito alla prossima gara Ok, eccoci qua Siamo al parco acquatico Quindi Siamo sia sulla terraferma Sia sott'acqua Dovremmo correre Sfruttiamo il booster iniziale Dammi il booster Sì Abbiamo preso anche il massimo Del booster Ok Mario Metallo sta già andando via Prendo Ah, volevo prenderlo col guscio Ma ho preso lui con la banana Peccato Ok Atterriamo Attenzione a quell'affare lì Che ci dà un piccolo Aiuto Abbiamo davanti Daisy Dovrebbe essere una delle sorelle di Peach Chiedo scusa se magari adesso Ho detto una cazzata Piantina Dai, piantina Dammi una mano Dammi una mano Dobbiamo tornare sotto, eh Attenzione al guscio verde Che se la viaggia lì Ha evitato che finissimo Su una banana di nuovo Caspita Mi ha preso qualcuno con il guscio Dobbiamo recuperare Dobbiamo recuperare Attenzione alle banane Che si trovano qua Sul tracciato Arriva uno da dietro con la stella Intanto recuperiamo qualche moneta Ok Usciamo forte dalla curva Perfetto Siamo terzi Daisy sempre lì davanti La passiamo a tutta velocità Ok Siamo davanti ragazzi Siamo davanti Perfetto Dai Dammi un buon power up Guscio Lo lancio indietro Ragazzi Ho imparato anche questo Perfetto Di nuovo indietro Magari ho preso qualcuno Mario metallo Ci sta davanti Guardate che macchina che ha Attenzione al guscio rosso Attenzione al guscio rosso No Pensavo di averlo evitato Monetina Caspita Pensavo di aver evitato Il guscio rosso Ok Attenzione al guscio verde Siamo già nell'ultimo giro Ragazzi eh Mario Ci saluta Mario metallo È stato fermato C'è di nuovo Daisy davanti Non possiamo Permetterle di vincere Di nuovo Dammi qualcosa di buono Banana Chissà se ho preso qualcuno S veloci Evitiamo la banana Ok Mario metallo Si inserisce di prepotenza Attenzione Mi sa che vince lui Mi sa che vince lui Non ho power up Attenzione Mario Attenzione mamma mia Avevamo Mario di fianco a noi Finiamo di nuovo Secondi Abbiamo Mario metallo Davanti in campionato Non riesco a capire Per Ah beh Si 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 Ok 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 Per un solo punto C'è davanti Andiamo alla prossima gara Eccoci qua Dolce dolce canyon È il nome di questo Tracciato Andiamo subito Alla griglia di partenza Ragazzi qui dobbiamo vincere O comunque Metterci dietro Mario metallo Se no scappa via In campionato Dammi il booster Si Mamma mia Mario Che booster che si è preso Ok Ne lancio tutti i gusci possibili Ah due si sono distrutti Tra di loro però Velocità massima Attenzione al guscio rosso Che ci sfiora E prende Mario davanti Ok Siamo in testa ragazzi Siamo in testa Luigi e questa motoretta Sono un'ottima accoppiata Monetina Attenzione alle curve qua Dai che ci prendiamo Un piccolo booster No Il guscio rosso Mario si è vendicato Daisy ci passa a fianco Mario metallo È secondo Dobbiamo mettercelo dietro Ragazzi Banana Banana E Banana Grande Daisy Che ha lanciato un guscio rosso E ha preso Mario metallo Ciao Mario metallo Però il terzo posto Mi sa che non ci basta Ragazzi eh Mi sa che non ci basta Andiamo veloci Banana Chissà se ho preso qualcuno Siamo al secondo giro C'è Ah Attenzione al guscio rosso Mamma mia Sti gusci rossi Vediamo tutto in drift Vediamo Dammi un buon power up Dammi un buon power up Ci stanno rubando le monetine davanti Gusci rossi Perfetto Un altro guscio rosso Dai che la prendo Dai che la prendo Sì Passo Mario Mario metallo Preso E vai ragazzi Però siamo quinti Siamo molto indietro Dobbiamo stare attenti Anche a Daisy Perché Chi è che è passato Con la stella Non so chi sia Siamo già nell'ultimo giro Ragazzi Dobbiamo sbrigarci Perché sì Dobbiamo stare attenti A Mario metallo Caspita Donkey Kong Si è fermato Sì dobbiamo stare attenti A Mario metallo Però dobbiamo anche Andare a prendere Daisy Perché se si piazza Tanto davanti a noi Rischiamo di farci Recuperare in campionato Booster Passo di qua Dovrei avercela lì davanti Ragazzi Siamo secondi Dai che la prendo Col guscio verde Niente Peccato Attenzione a non finire lunghi Mamma mia Se viaggia Mamma mia Quarti Terzi Terzi Dai dammi un buon Ultimo power up No l'ho perso Caspita L'ho perso Mario metallo è lì Mario metallo è lì Attenzione a Mario Che passa a tutta velocità E ci frega il secondo posto Concludiamo comunque Terzi Vediamo Daisy Siamo finiti davanti a Mario metallo Quindi abbiamo recuperato dei punti Però Mario e Daisy Ci passano davanti In campionato Attenzione Siamo al terzo posto Con gli stessi punti Ah no no Scusate scusate No Solo come classifica finale Della gara Daisy però ci passa davanti In campionato Abbiamo riagganciato Mario metallo Però siamo secondi Perché Daisy comunque Ha due vittorie Andiamo alla prossima gara Che è l'ultima Dai ragazzi Qui siamo le rovine Di Twomp Qui per forza Dobbiamo vincere Se vogliamo vincere Il titolo E sperare che Daisy Finisca Oltre il terzo posto Naturalmente Dobbiamo difenderci Sia da Mario Sia da Mario metallo Quindi Dai nostri due fratelli O lo stesso Dipende Dai punti di vista Ok Passiamo sulla parete Ragazzi Magari ci da Un piccolo vantaggio Usciamo più veloci Sì Siamo secondi Però Daisy Sempre molto Là davanti Attenzione a Mario metallo No no Caspita Pensavo Si schiantasse su di me Mario metallo Prende una banana Attenzione Attenzione il guscio rosso Caspita Non riesco mai a evitarli Da dietro qualcuno Arriva con la stella Vediamo chi è Toadette Toadette si inserisce Prepotentemente Al secondo posto Ma si schiantano Tutti quanti Su una Parete di roccia Adesso non mi Ricordo il nome Dai 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 Caspita Daisy viaggia Come una forse nata E lei è una combinazione Veicolo Personaggio Migliore della nostra Se ne A non beccare La nostra banana Passiamo di qua Lei passa Sulla parete Ok Usciamo anche noi Con il booster Vediamo Non posso ancora Passare in mezzo Peccato Piantina Ok Impediamo Mario metallo Di passarci davanti Vediamo se riesco A recuperarla Caspita Sta andando via In solitaria Sta andando via In solitaria Grazie Piantino Caspita Le banane Mi escono sempre Le banane Che non mi servono Mai a niente Guardate che distacco Che ha Pazzesco No Ci siamo fermati Attenzione a Mario Metallo Attenzione a Toadette Siamo riusciti Però a rubarle Un fungo Uh Daisy ha perso Tantissimo Riesce però A prenderci Con una banana E piazza Un'altra qua Attenzione a Mario Attenzione a Mario Mario non rompere Le scatole Grazie Dai che almeno Almeno voglio finire Sul podio In campionato Caspitolina Almeno sul podio Passiamo di qua No Caspita Si è abbattuto Su di noi Meno male Che non ci ha schiacciati Quindi non abbiamo perso Tantissimo Siamo secondi Daisy è là davanti Attenzione all'inchiostro Dai caspita Che siamo quasi Sul Rettilineo finale Oh Monetina Devo passare di qua Devo passare di qua Perfetto Dai 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 Attenzione al guscio rosso No 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 Caspita Dai Non ci credo Ragazzi Non ci credo Non ci credo Mi ha fregato Mario Alla fine Vediamo in campionato Wow Per un pelo Per un pelo Siamo terzi Grazie ai nostri Migliori piazzamenti Rispetto a Mario Però caspita Potevamo arrivare Secondi Potevamo arrivare Secondi Vabbè Non importa Siamo comunque Sul podio Andiamo a vedere I risultati Eccoci qua Con i risultati Finali Del Trofeo C'è andata Benissimo Comunque ragazzi Ma più di una volta Mi hanno sempre fregato Con il Come si chiama Col guscio rosso Con un guscio verde Sulla linea del traguardo Ci prendiamo Il bronzo Che è un'ottima cosa Vediamo se abbiamo Sbloccato qualcosa Ah non abbiamo sbloccato proprio niente Vabbè Peccato Pazienza Ragazzi Spero che comunque L'episodio vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Se vi siete divertiti Commentate Condividete In descrizione Potete trovare la mia pagina di facebook E ci vediamo nel prossimo episodio Sempre qui Su Mario Kart 8 Per Wii U Alla prossima ragazzi E ci vediamo nel prossimo episodio